La Terlite, leader nella produzione di calcestruzzi leggeri strutturali a Marchioleca e Centro Storico, ha sviluppato il nuovo sistema di consolidamento antisismico dei solai esistenti. Perimetro Forte è l'innovativo sistema di cerchiatura perimetrale con funzione antisismica composto da connettore perimetrale e ancorante chimico in abbinamento alla gamma di connettori Centro Storico ai calcestruzzi e massetti leggeri Leca. Il nuovo sistema, grazie all'efficace collegamento solaio-pareti, contribuisce a creare il comportamento scatolare dell'edificio, favorendo la stabilità delle pareti in muratura e incrementando la sicurezza antisismica dell'immobile. Le soluzioni perimetro Forte consentono, in funzione dell'edificio e delle modalità di intervento, di accedere alle agevolazioni fiscali previste dal sisma bonus con un miglioramento sino a quattro classi di rischio sismico. Connettore perimetrale è brevettato dalla Terlite e certificato dall'Università di Bergamo. Le soluzioni Leca e Centro Storico sono anche leggere, sino al 50% in meno, grazie ai calcestruzzi e massetti in argilla espansa. Minore peso sulle strutture significa anche forte riduzione delle masse oscillanti in caso di evento sismico e aumento della portata utile dei solari. Con perimetro Forte il sistema di consolidamento statico dei solai Leca e Centro Storico diventa antisismico. Ecco come si posa. Il sistema si compone di connettore perimetrale Centro Storico, fornito in comode confezioni di 12 pezzi che contengono le istruzioni di posa, e ancora antichimico, fornito in scatole da 6 cartucce da 300 ml. La posa è facile e veloce, non richiede mano d'opera e attrezzature speciali. Posizionare il prisma di base lungo l'intero perimetro del solaio, adeguatamente pulito e regolarizzato secondo lo schema di posa previsto dal progetto. Eseguire il foro a 45 gradi nella muratura utilizzando la dima del connettore, servendosi di un trapano tassellatore con punta da 16 mm per una lunghezza pari a circa 300 mm. Pulire il foro con pistola varia compressa, scomulino metallico oppure mediante aspirazione. In presenza di muratura eterogenea inserire la bussola metallica. Avvitare il beccuccio miscelatore sulla cartuccia e posizionare l'ancorante chimico dentro una pistola applicatrice tradizionale, tipo silicone, scartando la prima parte di prodotto fino a ottenere un colore uniforme. Riempire il foro fino a circa i 3 quinti della profondità. Inserire immediatamente il tirante spinotto, completo del relativo prisma di base, all'interno del foro resinato applicando un leggero movimento di rotazione. Attendere l'indurimento di ancorante chimico in funzione della temperatura da circa 90 minuti a 5-10 gradi centigradi a circa 30 minuti a 20-30 gradi centigradi e procedere al serraggio del tirante spinotto al prisma di base a mezzo arbitratore dotato di una buona coppia, meglio se a impulsi, con bussola esagonale da 19 mm. Posare le barre d'armatura longitudinali all'interno delle sedi previste nel prisma di base, così si deve realizzare la cerchiatura antisismica perimetroforte, si consigliano diametri di 12, 14 o 16 mm. Negli angoli si suggerisce di impiegare barre già piegate a misura. Completare il sistema con la posa di connettore centro storico, legno, acciaio, calcestruzzo oppure chimico, posando la rete elettrosaldata e completando con il getto di calcestruzzo leggero LECA per la formazione della soletta collaborante, oltre all'eventuale strato di finitura in massetto leggero LECA. Rendi più sicura la tua casa, scegli il sistema certificato di consolidamento antisismico dei solai LECA Centro Storico. Affidati alla qualità dei prodotti laterlite, seguici su LECA.it e su Centro Storico.eu LECA.it e su Centro Storico.eu